Il cuore della filiera turistica 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 Perché oltre ai cantanti I tecnici Le persone spesso invisibili Ci sono le guide turistiche Ci sono gli appassionati d'arte Ci sono i critici I pittori I barman I cuochi Cioè persone che tutto il mondo ci invida Dobbiamo Io voglio che oggi Da oggi a Venezia Vogliamo rendere omaggio a loro Un popolo di invisibili Che però fa grande il nostro paese La prima industria Tra l'altro italiana Credo che sia importante Che facciano una programmazione Si faccia una programmazione L'importante è sapere Quando si può Facendo una programmazione Così da belle gente sa Questo è fondamentale Anche per noi Sapere Sapere in anticipo O a breve Quello che possiamo fare E quello che non possiamo fare Di modo che uno Fa un piano della sua vita Insomma Del suo lavoro Intanto li proteggiamo Intanto facciamo il modo Di proteggere loro e le loro famiglie Ci sono vari paesi Che per esempio Già Sono Hanno Anche nel mondo dello spettacolo Dei concerti Qualcuno comincia già a dire Che magari sotto una certa capienza È possibile Fare Beh vediamo anche come Ovviamente come Come vanno le cose Però insomma C'è bisogno di Veramente Non è Non è secondario Ci darei una mano Assolutamente Sono qui Anche per testimoniare Per testimoniare questo E tutti gli italiani Grazie Perché abbiamo bisogno Di persone che ci mettono il cuore E poi con le conoscenze Che hai tu Magari riusciamo ad arrivare Prima nei cuori degli americani E degli inglesi Un grande piano di rilancio In ottobre In autunno In inverno Cioè Dobbiamo rilanciare l'Italia E lo facciamo insieme Alle migliori persone che abbiamo Credo che Tutti gli artisti Insomma Per quelli almeno Che conosco io Quando parli di Venezia Parlano Cioè Già Hai una porta Aperta Però ce ne vogliono due Per scappare No L'idea mia È proprio questa idea Della resilienza Che dicevi prima Cioè questa è una città Che ce la farà comunque E vorremmo dare una mano Anche agli altri L'idea non è solo Quella di pensare per Venezia Ma pensare a Venezia I destini del mondo interno Un mondo che adesso ha paura Perché non ha capito Perché è stata fatta Anche tanta confusione Tante paure Dobbiamo dare una mano Proprio alla gente dell'arte Le persone che hanno sempre Buttato il cuore Il sorriso davanti a tutto Ecco Assieme a loro In un luogo della bellezza Ecco Con la bellezza Rilanciamo il mondo Sono qui In qualsiasi momento Buona Buona canzone Buona canzone Grazie 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 Grazie